Sella, Pordoi, Curvara, Gardena. I quattro passi dolomitici che circondano il massiccio del Sella, oggi chiuso al traffico per una giornata dedicata alle due ruote. Il Sella Ronda Bike Day è una vera e propria festa della bici, che si celebra ogni anno da ormai 13 edizioni. È un appuntamento fisso che chi ama il ciclismo non può assolutamente perdere. I protagonisti? 24.000 biciclette e altrettanti amatori, tra esperti e ciclisti alle prime armi. Questa salita è stata bella. È stata bella, non difficilissima, ma bella. Un bel traguardo come Campolongo. Adesso aspettiamo i prossimi tre, sicuramente saranno più belli ancora. La salita al passo Sella è stata intensa, però è fatta bene. Mi sono allenata per un anno, quindi lo sto facendo in maniera tranquilla. Ed è così, in questo scenario incantato, che il Sella Ronda è e resterà sempre una dolce sfida. Una sfida con se stessi e con le salite. Una sfida che si aspetta e si prepara lentamente e con passione. A volte è attesa, a volte è emozione. Altre volte invece è una prova d'amore. Siccome ci dobbiamo sposare, le ho chiesto una prova d'amore. E questa mi sembrava un'occasione per dimostrarmi il suo amore. Giusto? Sì, e quindi sono bravissima. Quindi adesso dobbiamo solo pedalare e basta. La fatica si sente. È stato curioso anche vedere tanti ciclisti con delle bici particolari, strane. E faranno anche molta più fatica di me, penso, a salire. Ho visto anche tante persone con le bike. Cosa molto bella perché avvicina anche chi ha magari meno possibilità fisiche a questi panorami e a questa bella giornata in compagnia. Sono venuta a provare una giornata diversa e il panorama è un mozzo a fiato ed è bellissimo. Con le bike devo dire che funziona bene anche per chi appunto non ha allenamento ed è veramente un'idea molto innovativa e soprattutto utile per chi chiaramente non riesce a fare una salita del genere. Permette a tutti di vedere questi panorami ed è un aiuto notevole. Sinon le caratteristiche è molto più rilassato. È molto tranquillo, è solo bicchiere, persone e niente di altro. Questi 58 chilometri li hanno percorsi in 24.000, tutti sui pedali. Tutti tra il silenzio delle pallate, che per un giorno hanno dimenticato le macchine, la velocità e la solita frenesia quotidiana. Un serpentone di colore, di passione e di amicizia. Possiamo dire che i tornanti del massiccio del Sella custodiscono le tante storie dei ciclisti che ogni anno riempiono queste strade. Ciclisti, certo, ma quest'anno il Sella Ronda Bike Day è un po' particolare. La Sella Ronda Bici è donna? Sì, è anche donna. La Sella Ronda Bike Day è assolutamente anche donna. Finalmente il ciclismo è anche un po' donna. Ci sono anche parecchie donne e quelle che ci sono sono belle toste. Uno, due, tre, il Sella Ronda Bike Day è donna. Sella Ronda Bike Day è un po' donna.